Non si sono fatti scrupoli a rapinare un supermercato e a picchiare, seppur non ve ne fosse bisogno, l'inerme cassiere che stava consegnando l'incasso della giornata, ben 15.000 euro. La ferocia degli spacciatori può sfociare in altre azioni criminali, anche più gravi. Il colpo messo assegno al sole 365, lo scorso 29 marzo, ne è l'esempio. Di quei due rapinatori, uno sarebbe l'indagato Natale Tipaldi, 24enne di Castel San Giorgio, arrestato ieri nel blitz dei carabinieri del comando provinciale di Salerno, della compagnia di Mercato San Severino, coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica di Nocere Inferiore Roberto Lenza, che ha consentito di scoprire un giro di droga incredibile. Io credo che già di per sé la rapina stessa come evento delittuoso abbia insita la violenza. Ora dalle immagini si vede di come poi il rapinatore si accanisca nei confronti del dipendente del supermercato. Ed è proprio questo per noi il fatto di contrastare fenomeni come lo spaccio, che possono avere collegati altri fenomeni delinquenziali anche più violenti, più gravi. Non più gravi, sono tutti molto gravi. In ogni caso che hanno insita una maggiore violenza ci consente quindi di perseguire soggetti che di per sé sono dei soggetti di una certa pericolosità. L'operazione di ieri ha consentito di scoprire diversi gruppi criminali operanti tra l'Agro Nocerino e Salerno, tutti dediti a spacciare autonomamente sostanze stupefacenti di ogni genere. Sequestrati eroina, crack, cocaina, hashish e marijuana. Due gruppi operavano a Salerno, uno in centro e l'altro a Fratte, cinque le persone coinvolte. Gli indagati in carcere sono Danilo Principe, Abram Iro e Gabriele Angelo Aiello. Un altro gruppo, che si è macchiato pure della rapina al supermercato, vede coinvolte sei persone, in carcere Natale Tipaldi e Gennaro Vitolo, tre ai domiciliari e due indagati, tra cui una donna. Erano attivi sul territorio di Cassel San Giorgio, Rocca Piemonte e Nocera Superiore, dove sono stati sequestrati anche due immobili utilizzati come centrale di spaccio. In manette pure un gambiano, Salai Mansaniang, detto Solimano, richiedente asilo trentenne che si destreggiava nello spaccio tra le strade di Cassel San Giorgio, risiedeva al centro per richiedenti asilo di Torello e il lungomare di Salerno, dove già fu arrestato dagli uomini della squadra mobili alcune settimane fa. Gli indagati in carcere hanno tutti un'età compresa tra i 35 e i 19 anni.